Allora mi state scrivendo in tanti perché evidentemente su Rete4 credo che il programma sia zona bianca stanno parlando di Miami e molti mi hanno scritto ma è vero quello che stanno dicendo io non ho visto il programma però mi hanno girato un po' di screenshot e degli spezzoni del programma e sì è vero, io sono due anni che cerco di spiegarvi sta roba ora non mi fraintendete, io non è che difendo il metodo della Florida per farvi un esempio la Florida si sta comportando da più di due anni ormai in maniera completamente opposta a New York quindi anche in America ci sono delle fazioni, delle divisioni qui da quando è iniziata la pandemia ad oggi che abbiamo tantissimi casi qui siamo tutti assolutamente liberi, ma liberi nel vero senso della parola non c'è nessun tipo di restrizione o obbligo, nessun tipo e ve lo sto dicendo da un sacco di tempo non c'è nessun tipo non c'è nessun tipo di tempo non c'è nessun tipo di tempo Grazie a tutti